Allora, ragazze, donna Pamela, voleva dirvi una cosa. Ci vediamo oggi alla mensa, media settembre. Ma che entusiasmo! Ci vediamo a pomeriggio 5, dopo. Intanto li aspettiamo di scendere. Vale, c'è il prosciutto, il prosciutto. Allora, donne, questo è il siero che ho messo prima di fare la base trucco, il siero al veleno d'ape di LR Wonder Company. Lo potete utilizzare come base trucco perché non unge, quindi non lascia la pelle untuosa dopo. È al veleno d'ape che è un ingrediente nuovissimo utilizzato da LR Wonder Company che va a attenuare i segni del tempo, quindi ringiovanesce, ci aiuta a mantenere la pelle giovane. Vi lascio il link di LR Wonder Company e vi lascio il codice rosa 10 per avere lo sconto su LR. Faccio una dichiarazione pubblica, voglio accompagnare sempre la perrotta negli studi perché è l'unica che mangia, non vuole la truccatrice, non sta a tre ore dal parrucchiere, fa tutto da sola. Eccoci appena rientrati, guardate dopo la puntata, non fate sapere cosa ne pensate. Io ho questa macchia qua, c'è più qua, qui, quindi mi devo scegliere questa macchia. E non la ci sentiamo dopo, commentiamo un po', facciamo gli inciusi. Allora, stazione di Milano, ritorno. Ma me la chiamo al McDonald's. Sì, andiamo al McDonald's. Ma è che buono, scrivete. Ma la prendi, c'è la idea. Allora, il bicchiere di ghiaccio. Il bicchiere di ghiaccio è il migliore tale, eh. Come sta a pensare? Ha preso il bicchiere di ghiaccio, ma. Perché il ghiaccio del McDonald's è più buono. Non potete capire che sobleme. Che le pazza, signor. Che sobleme. Non ho capito nulla. Non ho scelto nato. La puntata che abbiamo registrato ottima in onda domani. Quindi non ci vediamo oggi, ma ci vediamo domani. Come diceci. Scusate. Se io, come vedete, sono ancora il treno. Bella, se non ci sono, eh. Non ci pensate voi a continuare. Sanno ancora il confronto. I documenti ufficiati della sanità. Sono molto bella. Allora, ragazzi, sono scelto dal treno. Io ho dimenticato la valigia. Quindi mi chiama il tigello assento qua. E scusa, scusa, non dimenticare la valigia della porta. Siamo dal treno e anziché ti vedi verso l'uscita. Beh, dove sta? L'altra parte del treno. Questa mi chiama scusa. Stai andando in una direzione sbagliata. Beh, esco dalla sanzione. E vado. Mario. Mi vuole comprare con un panino. Perdonimi. Di cosa ti devo perdonare? Perdonimi. Che vuoi venire a dire con questo panino? Che siete secca. Potete mangiare. Vi dovete dire qualcosa. Ah, intanto vogliamo ringraziare Luigi per questo che ci hanno andato. Grazie Luigi. C'è qualcuno che l'azzo vuole segnare Luigi. Andiamo. Andiamo. Dritto, 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 dritto. Tante rami. Ah, un fiori fatto, un fiori fatto. Un fiori fatto. Ma sei un passimo autista. Ah, ora ci sono i fiori. Ah, ora ci sono i fiori. Massa testa. Ci sono i fiori. Ah. Ah. Ah.